Ciao a tutti, qua siamo in nostra casa nuova, adesso siamo qua mese, 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 più grande, e oggi è festa, vennerà tutti per mangiare barbeque, e adesso andiamo dentro, vediamo. Ecco che arriva mamma, papà, un zio e un zia di Florida. Ok, dica ciao a tutti. Ciao. Ciao. Adesso arriva Dario con Eric, Dario ha la nuova motocicletta qua, Harley Davidson. Harley Davidson. Dica ciao. Ciao a tutti. Eric. Adesso arriva Nancy con Timmy e l'amorosa Andrea. Ciao a tutti. Tarek and Mary and Sam. Hi baby. Tarek, can you say hi to Italy? Say ciao? No. 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 No, 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 no. Mary, dica ciao a tutti. Hello. no cat got your tongue? huh? cat got your tongue? uh sorta di ciao ciao non è così sweet no 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 usa sweet si usa gambe si look nice yeah smile cheers good boy you are I remember when you was a little baby not a little baby little guy no brother no 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 in that little mall that was abandoned in there some guy bought it and took over the whole place and started building stuff in there and just bought one we got laser tag in there and stuff yeah pretty cool we gotta go sometime and play miniature golf oh sure one day we went our way from north to play just to play musical come on come on come on wow ciao a tutti ciao a tutti ciao babbi ok let's go ecco adesso abbiamo tutto il casino qua che tutti mangia 24,000 wow 22,000 euro it's been a lot of miles per bike oh yeah dario te mangi? che bello 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 tutto il polo e hamburger eeeh sì che bello che bello che bello che bello Grazie.